Sindaco Castiglione, è stato un anno difficile il 2021, un anno condizionato dall'emergenza sanitaria. Lei oggi in conferenza stampa però ha elencato e ha rivendicato anche i successi della sua amministrazione. Quello che siete riusciti a fare in quest'anno? Un lavoro costante che dal primo giorno, mettendo mano a un bilancio, a una macchina comunale che era un po' ingolfata, l'abbiamo sistemato soprattutto appunto nel bilancio delle casse comunali del Comune e siamo passati addirittura da un'anticipazione di cassa di un milione e mezzo nel 2017. Oggi abbiamo un segno positivo di 4 milioni. Questo permette di avere una liquidità di cassa, permette di poter amministrare serenamente, di pagare chi fornisce servizi al Comune addirittura con meno di 30 giorni di attesa. Questo è un grosso risultato e questo poi con la macrostruttura che abbiamo riorganizzato ha dato dei frutti importanti. 15 milioni di investimenti in opere pubbliche, dai lavori nelle strade extraurbane, dai lavori nel centro urbano, nelle scuole, ai cimiteri, insomma nei servizi, nei beni. Insomma abbiamo lavorato tantissimo, l'abbiamo fatto in piena pandemia, proprio cercando di lanciare quel messaggio di speranza e di fiducia ai cittadini con il lavoro e senza piangerci addosso. Noi siamo in attesa, veramente con molta impazienza, di questo finanziamento perché credo che la funiculare, l'impianto di risalita che dalla pista ciclabile porteranno i ciclisti e i turisti ad Ortona Centro, credo che rappresenterà il fiorallocchiello non solo di Ortona, ma della costa dei Trabocchi e della regione Abruzzo. A maggio scadrà il suo mandato, lei si ricandiderà sindaco di Ortona? Stiamo già lavorando per il futuro, portando avanti il nostro progetto civico, chiederemo alla città e ai nostri concittadini di dare continuità a questa amministrazione.